Qual è il quadro di un paese in movimento? L'età degli imprenditori per la prima volta abbiamo un quadro molto più chiaro che ci mostra per esempio come abbiamo un problema di ricambio generazionale potenziale tra gli imprenditori più anziani e più giovani. Questo va esattamente nella direzione in cui è andato anche il recente decreto sul lavoro per stimolare l'autoimprenditorialità, per rilanciare la figura dell'imprenditore come motore di crescita che va indubbiamente valorizzato anche tra i più giovani. E' chiaro che in un momento di rischio come questo, in un momento di crisi non è facile però è anche importante riuscire a stimolare questa crescita dell'imprenditorialità, dell'innovazione e proprio in questa direzione vanno alcune delle misure che abbiamo adottato.